E' l'atto finale dei play-off di eccellenza abruzzese e come da pronostico ci arrivano la seconda e la terza della classe della gradatoria dopo la regular season. Sambuceto e Torrese hanno dimostrato nell'arco di tutta la stagione di poter competere in categorie superiori, ma la gara di oggi può nascondere insidie inaspettate, soprattutto perché si gioca dopo una stagione costellata da molteplici impegni. Tra squalifiche ed acciacchi i due mister scelgono le formazioni migliori e se gli attacchi confermeranno la bontà del lavoro svolto durante l'annata sicuramente assisteremo ad un match spettacolare. Il compito di gestire la contesa è affidato a Stefano Giampietro della sezione di Pescara. Nel corso del primo tempo si rende viva immediatamente la partita con la prima azione di Marca Viola. Camperchioli calcia a giro sul secondo palo e arriva di pochissimo in ritardo all'appuntamento d'Antonio. Passa appena un minuto e prova a rispondere la torrese con un tiro a giro di Torbidone che però finisce ampiamente a lato. Cinque giri di orologio e Francesco Maio può cambiare il volto al match. Il numero 9 si libera agevolmente di D'Amico all'interno dell'area di rigore e con una sterzata induce l'avversario all'atterramento. Dal dischetto lo stesso numero 9 giallorosso si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore Dedeo che si ripete sulla conclusione di Stacchiotti. La torrese non si demoralizza e al quindicesimo sfiora ancora il vantaggio dopo un colpo di testa di Nardone che da cross dalla destra incoccia perfettamente ma trova il palo a dire no. I giallorossi ora cercano di prendere il pallino del gioco e su un filtrante per Puglia sfiorano ancora il sorpasso ma il numero 7 giallorosso in precario equilibrio non riesce a insaccare in rete dopo aver superato l'estremo difensore. L'ultima emozione del primo tempo è a favore del Sambuceto quando inaspettatamente l'Alli spara alle stelle da ottima posizione il più semplice dei tapini. Prima del duplice fischio Puglia si mette le mani nei capelli in quanto Dedeo spedisce in calcio d'angolo un piatto a botta sicura dello stesso numero 7 giallorosso. Rivediamo l'intervento dell'estremo difensore. I secondi 45 minuti si aprono subito con un'emozione. L'imbucata per Criscolo è di ottima fattura ed il numero 7 con Bruno in uscita con il classico tocco sotto infila la rete del vantaggio. Ora l'inerzia è a favore dei violadi del Zotti che con lo stesso Criscolo lanciato dalle retrovie sfiorano il raddoppio ma un super Bruno evita il doppio passivo. E davanti a certe squadre se sbagli paghi. Poco prima della mezz'ora infatti è splendido l'assist di Petronio per Maio che face to face con Dedeo trova il tocco morbido per infilare il gol del pari. Per il Sambuceto è una mazzata e 4 minuti più tardi deve per la seconda volta raccogliere il pallone in fondo al sacco. Il numero 1 viola infatti viene sauperato da un piattone di Maio ottimamente servito dopo uno straordinario spunto di Puglia. I minuti passano e sembra che il match possa colorarsi definitivamente di giallo e di rosso ma una splendida azione tra Lalli e Selva Allegra consente a quest'ultimo di calciare in porta una traiettoria imparabile. È un gol bellissimo che merita di essere rivisto. Si va così ai supplementari dove il primo tempo, forse complice la tensione e il nervosismo, scivola via senza nessun sussulto. Negli ultimi 15 minuti invece succede davvero di tutto. Dopo 120 secondi il Sambuceto torna in vantaggio con una rasoiata di Alessandro Gelsi che dal limite dell'area incoccia da prima il palo e poi si spegne in rete. Stavolta il vantaggio psicologico cambia residenza e vada a casarsi nei pressi di Sambuceto con i ragazzi di Cristofari letteralmente demoralizzati per l'andamento del match dopo le tante occasioni sprecate. Non succede più nulla fino all'ultimo secondo dell'ultimo tempo supplementare dell'ultima partita stagionale. Il Sambuceto non riesce a gestire l'ultimo pallone del match e Chiacchiarelli dall'out di sinistra alza la testa disegnando una pennellata che va a morire sulla testa di Torbidone. Basta solo spingere in rete. La Torrese alza le braccia al cielo. Per il Sambuceto è una mazzata tremenda. È stata una gara bellissima, difficile da raccontare in una sintesi di 4 minuti. Il match è stato intenso e dotato tecnicamente, dal primo all'ultimo minuto. Alla fine la gara ha avuto un solo ed unico difetto. È terminata. Selva Allegra, quella perla che poi alla fine non è servita. Sembrava avere indirizzato il match perché è stata una vera e propria magia. Quanta contentezza c'è per aver realizzato un gol del genere ma quanta tristezza per questo finale assurdo. Non ci sono parole adesso. Non so neanche che dire sinceramente. Avete dato tutto non solo nella stagione ma anche soprattutto oggi. È una partita bellissima, un gruppo fantastico. L'abbiamo dimostrato oggi e purtroppo è andato a finire così. In bocca al lupo e complimenti ancora. Ne ho raccontate tante, devo essere sincero. Quella di oggi è clamorosa perché passavano i minuti, passavano i minuti, gara indirizzata verso la Torrese, gara indirizzata verso il San Buceto, capovolgimenti di fronte assurdi. È stata una grande partita. Questo è poco ma sicuro. Una delle più belle mai raccontate. Una bellissima partita. Io guarda, veramente non so cosa dirti. Fino a un secondo fa eravamo noi a dover uscire e invece con la forza del gruppo, come avevo già detto prima, di squadra, di tutta la società, staff, siamo riusciti a raggiungere un traguardo storico e ce lo meritiamo. Mi dispiace per il San Buceto e faccio i complimenti perché è veramente squadra forte. Io in diretta ho detto che dopo il calcio di rigore, con molta bravura che ti sei procurato, poi lo hai fallito, forse c'è stata più la bravura dell'estremo difensore. Guarda caso poi hai realizzato la doppietta che ha consentito quel parziale vantaggio. Lì naturalmente ti sei sentito appagato. Che cosa è successo a livello muscolare? A livello muscolare è stato un contrasto. Qui di gioco ho preso una botta, mi si è gonfiato il quadricipide e come faceva uno scatto mi si induriva. Poi riguardo i due gol sono contento e dopo aver sbagliato il rigore a fine primo tempo ho pensato che poteva essere l'ultima partita, non mi valeva la pena di pensare a un rigore sbagliato per poter sbagliare ancora. Quindi meno male che è andata bene. L'ultimo secondo, il gol decisivo, può essere un segnale? È un segnale della forza di questo gruppo, è un segnale che la squadra ci crede, è un segnale che la squadra è unita e compatta perché fare gol all'ultimo secondo non è mai un caso. È dovuto rimanere in tribuna per la squalifica, da tifoso, da allenatore e soprattutto da psicologo. Maio diceva che in un secondo è cambiato il mondo. Ad un certo punto ti ho visto e non ci credevi più. Questa è un'impresa dei miei ragazzi, devo solo che ringraziarli perché ci meritiamo questa gioia. Mi dispiace per il San Buceto che ha fatto comunque una grandissima gara. Anche loro avrebbero meritato di passare il turno, il calcio è questo. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo trovato questo spunto e credo che sia il giusto premio a questa squadra che ha lavorato da luglio per arrivare a questo obiettivo. Questa volta te la sei vista dalla tribuna. Puoi affermare, puoi certificare quello che ho detto anche in diretta per intensità, per doti tecniche, per i gol realizzati. È stata una delle partite più belle di tutta la storia dell'eccellenza? Credo proprio di sì. Credo che oggi se dovevamo fare uno spot per l'eccellenza sia stata la partita ideale. Sapevamo già alla vigilia che eravamo due squadre che propongono gioco, che provano a giocare, provano a dare spettacolo e credo che ambito le squadre ci sono riuscite. Noi siamo partiti forti, abbiamo avuto 4-5 situazioni da rete, il rigore è sbagliato, palo, non ci siamo persi d'animo, siamo andati sotto, abbiamo ripaltato la partita, siamo andati di nuovo sotto e crederci fino alla fine. Questa è l'anima di questa squadra, la qualità più grande che hanno, sono degli uomini e io sono fiero di guidarli. Ad un certo punto eravamo distanti ma hai detto, o perlomeno così ho capito, occhio a sinistra perché c'è Selva Allegra. Qualche secondo dopo lo scambio perfetto con Lalli che poi si è ripetuto anche sul gol di Gelsi con questa trama ad accentrare quella traiettoria favolosa. Castrone non poteva far nulla, però lì un minimo di attenzione ci voleva. Beh sì, ci siamo abbassati un pochino troppo, loro sicuramente hanno trovato due gol pazzeschi insomma dalla distanza. Sapevamo che Selva Allegra è un giocatore che ha grandissima qualità, che veniva dentro. Lì veramente ci è rimasto il nodo in gola perché la partita era agli sgoccioli, siamo andati supplementari, ripeto, siamo andati sotto. Grande merito va alla mia squadra, veramente non finirò mai di ringraziarli. Per me iniziare la mia avventura di allenatore con un gruppo del genere è veramente il top, sono veramente orgoglioso di loro. Speriamo adesso di proseguire perché questo è solo uno step per poter andare a fare le fasi nazionali. Il gol all'ultimo secondo può lanciare un messaggio, può essere a livello scaramantico e a livello di sorte, proprio di fortuna, un segnale importante? No, diciamo che ad altissimi livelli abbiamo visto come in settimana la Champions ha avuto dei risvolti clamorosi e quindi io ai ragazzi ho sempre detto crediamoci fino alla fine perché abbiamo avuto gli esempi a grandissimi livelli. Guarda caso oggi si è rivelato tale, il merito, ripeto, è che ci abbiamo creduto fino alla fine e io a un certo punto sinceramente non ci credevo più perché comunque i minuti passavano. Vincere così ha un sapore veramente eccezionale. Mi dispiace veramente tanto per la società del San Buceto e per il loro mister che veramente stimo tanto sia come società che come allenatore. Siamo due allenatori giovani, emergenti, credo che oggi abbiamo dimostrato di avere dei valori come squadra e sicuramente c'è anche la nostra impronta, quindi faccio un grandissimo in bocca al lupo e complimenti a questa società e a questo allenatore ma ci riproveranno sicuramente il prossimo anno. E tra l'altro mi ha fatto piacere evidenziare come, malgrado l'importanza del match, estrema correttezza. Naturalmente qualche colpo basso c'è, ma ci deve stare perché è uno sport di contatto e non stiamo lì a ripetere. Però estrema correttezza, i cartellini sottrattenute su qualche simulazione, ma nulla di cattivo. Assolutamente sono d'accordo con te, ma lo sapevo già alla vigilia, siamo due squadre corrette, due squadre che giocano a calcio, quindi sapevo che sarebbe stata una partita leale come si è rivelata e quindi, ripeto, siamo felicissimi, ancora non ci credo, veramente devo ancora metabolizzare questa vittoria perché veramente non ci credo. La prossima la segui in tribuna o in panchina? No, no, assolutamente in panchina, in tribuna non è... è per i cuori forti, io non ce li ho, non ce l'ho e quindi non vedo l'ora di tornare domenica in panchina. Perfetto, grazie a mister Cristoforo, i complimenti, io adesso vado dalle parti della dirigenza, io non so se c'è, vedo il presidente che a livello di respirazione ha delle difficoltà, ma c'è tutto. Presidente, se ci mettiamo a favore di camera e champagne e sudore e foga e gioia, che cosa è successo? Perché davvero gli ultimi secondi hanno significato un qualcosa di importante, tanti sacrifici da parte sua, da parte della società, forse ripagati in quell'ultimo ed unico secondo. Questo è carattere, questo è carattere ragazzi, non si può perdere una partita dopo averla dominata in lungo e in largo il primo tempo, trovarsi sotto con tre reti a 10 secondi dalla fine, questa è una squadra che ha carattere, che ha tutto, grinda, ringrazio immensamente tutti i giocatori, staff tecnico, dirigenti e quant'altro, il pubblico che è venuto numeroso oggi ad assistere alla nostra vittoria, il mister che ci è creduto dall'inizio alla fine, voglio fare anche un applauso al mister Narcisi che anche lui... Questa è una bella dichiarazione perché naturalmente voi avete iniziato il campionato con un altro allenatore e naturalmente non abbiamo la certificazione di quello che poteva accadere con Luigi Narcisi, però anche lui fa parte di questo splendido risultato e questo le fa onore. Io lo voglio ringraziare perché anche se questo è il risultato è anche merito di Narcisi che è stato con noi, il lavoro suo è stato condiviso anche dal nostro allenatore Cristofre che ha portato avanti anche il suo lavoro e questo ne dobbiamo dare atto al preparatore atletico perché la squadra ha giocato fino al 123esimo del secondo tempo, a tutti, sono contento, strafelice. Stasera che succede a Villa Torre, Presidente, perché naturalmente un piccolo premio enogastronomico come lo chiamo io, i ragazzi se lo meritano, anzi se fate qualcosa di buono vengo anch'io. Adesso mi tocca lavare ancora una settimana i palli perché ci dobbiamo allenare, dobbiamo portare in alto i colori della Torrese ma principalmente i colori che rappresentiamo per l'Abruzzo per le prossime eventuali partite che si andranno a fare che attualmente non sappiamo dove però ci presenteremo al meglio per disputare e portare in alto il nome dell'Abruzzo e della Torrese. Ringrazio anche voi i giornalisti, Rete 8 e speriamo che ci seguite anche nelle prossime trasferite. Se possiamo Presidente saremo al vostro fianco come saremmo stati al fianco naturalmente del San Buceto a cui va il ringraziamento per aver regalato, come diceva Mr. Cristoforo, una gara che fa da spot all'eccellenza perché oggi davvero abbiamo visto una grande bella partita. Io Presidente voglio firmare Mr. Delzotti così vi date un cambio perché merita anche lui, ecco è bella questa immagine. Comunque sì, onore va anche al San Buceto perché arrivare a una finale con noi o chiunque era per posto nostro è un onore perché siamo stati oltre al Chiedi le due squadre più prolifiche del campionato. Chi per un motivo, chi per un altro. Onore va anche a loro perché è stata una grandissima partita. Voglio dire un aneddoto prima della partita che un vostro telecronista aveva detto speriamo che questa partita oggi se si siano tiri in borta perché nell'altra semifinale l'anno scorso zero tiri in borta. Io penso che oggi sia stata una finale di grande calcio, disputata da due squadre senza speculazione. Abbiamo giocato, abbiamo vinto, siamo stati più fortunati. Onore al San Buceto. Grazie Presidente. Mr. Mr. Allora naturalmente parliamo di una sconfitta ma sconfitta non è stata perché poi il regolamento prevede questo, la regular season ha detto che siete finiti dietro proprio la Torrese. Contro i diretti. Esatto. Ma questa partita come dicevo adesso forse per chi esce sconfitto è brutto dirlo. Dicevamo è uno spot per questo campionato, uno spot per l'eccellenza ed è uno spot soprattutto per dei ragazzi abruzzesi, gli under abruzzesi che dimostrano con tante rappresentanze che oggi ci sono state che noi possiamo fare calcio anche senza andare a spendere, anche senza andare a prendere chi sa chi. Vero, questa partita è veramente stata un inno al calcio e credo che tutto l'Abruzzo deve essere orgoglioso di quello che abbiamo fatto noi, di quello che ha fatto la Torrese ma non solo in questa partita, in tutto veramente il campionato. Abbiamo giocato ogni partita per vincere, per fare gol, per divertirci con dei concetti che io credo siano il futuro del calcio. Quindi io volevo cogliere l'occasione per ringraziare la squadra che mi hanno dato occasione di mettere in pratica tutto quello che è il mio sapere, non so se è tanto, non so se è poco però mi hanno dato occasione comunque di lavorare senza mai un cenno di dubbio, di indecisione mi hanno sempre accolto al 100%, volevo ringraziarli e dirgli che sono veramente forti e sono sicuro che qualcuno di questi ragazzi andrà a calpestare palcoscenici più importanti. Tornando alla partita c'è qualcosa che non rifarebbe perché nei cambi non ha sbagliato quasi nulla, forse si poteva gestire meglio quell'ultima azione, c'è stata poca pressione sul cambio di gioco è mancata lì la sua squadra, condannarla in un secondo di gioco forse sarebbe eccessivo. Un secondo di gioco dove il nostro esterno aveva palla vicino alla bandierina ha deciso di mettere un cross in mezzo e su una ripartenza però è un ragazzo 2001 che durante il campionato ci ha dato, non so, poteva dare 10 e ha dato 30 e adesso condannarlo su quell'occasione non è giusto, non è corretto per lui, ha fatto una grande partita. Poi è normale che loro hanno veramente dei campioni per la categoria, non devo stare io a dirlo, giocatori più abituati a fare queste partite e c'era da aspettarselo che la partita si sarebbe decisa negli ultimi momenti di gioco. Del Zotti che cosa fa l'anno prossimo? Ancora devo metabolizzare questa sconfitta e poi vedremo. Io colgo l'occasione per ringraziare anche la società che mi ha dato veramente carta bianca su tutto senza mai mettere bocca sulle scelte perché poi naturalmente può accadere. Magari col fatto che sono un ragazzo, la prima scelta che potevo sbagliare, qualcuno poteva venire e mettere in dubbio invece sono stati sempre corretti, non mi hanno fatto mancare niente, mi hanno fatto lavorare sia in allenamento sia in partita e li devo ringraziare perché sono stati veramente coraggiosi a darmi questa macchina che è veramente una grande macchina.